carissimi pace e buona giornata a tutti quanti voi 16 settembre sono le 7 del mattino vi invito a prendere le vostre bibbie e a leggere nel capitolo 9 del libro del profeta zaccaria ci soffermeremo sui primi 17 versi è un brano molto interessante perché in esso c'è la profezia relativa all'entrata del signore a gerusalemme un'entrata che avvenne su un puletro d'asina di certo non si addiceva un re questo tra virgolette mezzo di trasporto un'entrata che avvenne senza un esercito ma con una folla festante formata da bambini e da diseredati folla che diceva osanna osanna il figlio di davide benedetto colui che viene nel nome del signore parole che si addicevano queste sì a gesù il figlio di dio e che diedero fastidio alla casta religiosa del tempo la quale invitò gesù a dire a quanti gridavano di smetterla perché al loro modo di vedere stavano esagerando la risposta di gesù se questi dovessero tacere le pietre griderebbero al loro posto o ci ricorda in modo ancora una volta chiaro quanto sia importante considerare che il nome di cristo deve essere innalzato benedetto e glorificato e che se non lo fanno coloro che sono stati riscattati mediante il sangue dell'agnello o lo faranno altri al posto loro ma noi non vogliamo essere sostituiti non vogliamo essere persone che rimangono indifferenti dinanzi alla persona di cristo noi vogliamo dare gloria e lode e onore e ringraziamento al nostro signore gesù e preghiamo e adoperiamo affinché altri si possono aggiungere a noi non sostituire ma aggiungere a ognuno di noi è entrata quindi in gerusalemme su una poledro d'asina gesù infatti disse ai suoi discepoli andate troverete un poledro legato che nessuno ha mai montato scioglietelo portatelo da me e questo i discepoli fecero e in quel poledro d'asina possiamo trovare un'immagine dell'umanità che come quel poledro è legato legato non però da catene visibili ma da quelle invisibili ma altrettanto reali del peccato e affinché ci possa essere la redenzione la liberazione è necessario che gesù possa prendere il controllo della vita dell'uomo infatti quel poledro venne sciolto per portare su di sé colui che è l'agnello di dio e in questo c'è un adempimento anche di un rituale mosaico perché la legge stabiliva che era necessario riscattare il poledro o d'asina il primo genito dell'asina mediante un agnello l'umanità può essere riscattata solo per mezzo dell'agnello di dio tant'è che è scritto che dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna e non c'è altra possibilità di riscatto non c'è altra possibilità di salvezza non c'è altra possibilità di poter ottenere liberazione dagli angosciosi legami del peccato che conducono alla morte solo cristo gesù può dare vita e vita eterna e io spero che quanti siete in ascolto abbiate già sperimentato questa realtà ma se non l'hai ancora sperimentata questa mattina vai al signore chiedi perdono confessa i tuoi peccati pentiti ravveriti il sangue di gesù ti riscatterà ti scioglierà ti renderà libero come quel poledro e anche tu potrai portare gesù non più sul tuo collo ma nel tuo cuore e lo potrai e ne potrai scusate godere la bellezza della sua presenza perché egli guiderà i tuoi passi ti condurrà come fa il buon pastore lungo le acque calme e ti sosterrà anche quando dovrai attraversare i momenti difficili della valle dell'ombra della morte un poledro d'asina quindi che porta il signore nella città di gerusalemme e ricordiamoci che anche noi entreremo nella gerusalemme celeste se saremo stati riscattati mediante il sangue dell'agnello e quella gerusalemme di cui si parla nel libro dell'apocalisse nella quale è scritto che non ci sarà più pianto né dolore né grido né lacrima né malattia né morte perché il signore instaurerà il suo regno glorioso i cieli e la terra che oggi conosciamo passeranno e saranno sostituiti da nuovi cieli e da nuova terra e gloria a dio lì il peccato non ci sarà più perché l'origine del peccato stesso vale a dire satana sarà scaraventato insieme ai suoi angeli a tutti coloro che lo avranno seguito sulla faccia di questa terra nello stagno ardente di zolfo e di fuoco dove c'è la morte seconda sì perché c'è uno stagno ardente di zolfo e di fuoco per coloro che non vengono sciolti dai legami del peccato per coloro che non sono riscattati mediante il sangue dell'agnello infatti sempre nel rituale mosaico era previsto che se il figlio dell'asina non fosse stato riscattato era necessario fiaccargli il collo o signore abbi pietà di noi perdonaci lavaci purificaci scioglici dal perché dai legami del peccato aiutaci a camminare nelle tue vie finché possiamo entrare nel tuo regno e vivere con te per tutta l'eternità possa in questo nuovo giorno la presenza del signore accompagnarci e farci riflettere su quella che la nostra condotta per capire dove dobbiamo emendare uso un termine un po arcaico le nostre vie in modo da potergli piacere ed essere un giorno per l'eternità nella sua presenza che la sua grazia che la sua presenza e il suo aiuto sia con tutti quanti noi dio ci benedica insieme